Ciao a tutti, eccomi qua con un altro Robbie Seys, stavolta parliamo di The Lobster, l'ultima fatica di Colin Farrell dopo True Detective 2 che io ho trovato gradevole, molto carino, molto carino, molto allegro, soprattutto nel finale True Detective 2, allegorissimo. Perfetto, andiamo a vedere il trailer direttamente, cosa ti dice questo The Lobster? Oh, qua vedo del Wes Ederson What the... Vuittono se c'è del Wes qui, ma è di Wes, non è di Wes Sotto Dio Vuittonamo se c'è il suo dato di... ...che i versagli rappresentino persone singole e non coppie Qui c'è un Wes Ederson dietro, fisso 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 Vuittonamo Hai catturato dei conigli? Bella te Piuttosto difficile Complicatissimo Braggelsweiss Dio con una sonora metal proprio peso qui c'è del peso qui c'è del peso di una stuccata sincronizza ma dai ma cosa c'è il Philips il Philips lettore cd ma dai ma sono tutto divino ha pensato che gli animali potrebbero diventare se restassi da solo sì una ragosta una ragosta ma sono tutto divino con le chele ma dai ma cosa fai come ti nassi con le chele come ti nassi questi pantaloni mi stanno se ti mi dispiace grazie